Si vedeva queste fiamme altissime, si sentivano degli scoppi e subito ho pensato al Vibo, perché erano nostri clienti e dispiace veramente tanto. Questa cosa qua non si doveva succedere anche per l'economia che c'è adesso, anche per gli operai che lavorano dentro e penso che sia una cosa molto grave. Mi hanno mandato un messaggio la security dicendo che c'era un principio di incendio e siamo venuti giù a mezzanotte e mezza e c'erano dei pompieri molto bravi, incumulato con loro perché molto professionali, solo che purtroppo è partito come la candela, è partito tutto quanto, comunque abbiamo salvato gli uffici per fortuna e anche l'80% della parte produttiva. Quindi speriamo, con la nostra tenazza e forza, di riuscire a ripartire in una settimana o dieci giorni. Le macchine, il cuore dell'azienda è stato salvato, in magazzini purtroppo non c'è più nulla, ma partiamo dai. Si riparte, ci rimbocchiamo le maniche, troviamo altri spazi e cerchiamo di ripartire il prima possibile. Sul posto a sincerarsi dei danni a confortare i titolari della Vibo, anche la senatrice Erika Stefani. Lì si vede il tessuto imprenditoriale Veneto, persone che non si disperano e dicono pazienza, andremo avanti, andiamo avanti con la produzione e è bruciato il capannone, lo faremo più bello di prima. Io penso che questo sia uno dei più belli, più bei messaggi che ci possono dare da questo Veneto che è straordinario.